Beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati gli afflitti, perché saranno consolati. Beati i miti, perché erediteranno il mondo. Beati quelli che hanno fame e sede di giustizia, perché saranno saziati. Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia. Beati sono i puri di cuore, perché vedranno Dio. Beato chi porta la pace, perché sarà chiamato figlio di Dio. Beato colui che è perseguitato per una causa giusta, perché suo sarà il regno dei cieli. Beati sarete voi, quando vi insulteranno e vi perseguiteranno, e diranno ogni male contro di voi, per causa mia. Gioite, gioite ed esultate, perché la vostra ricompensa sarà grande nei cieli, come è avvenuto per i profeti perseguitati prima di voi. E quando pregate, non cercate parole inutili, perché il padre vostro sa di cosa avete bisogno prima ancora che glielo chiediate. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.